addio alla mia vecchia webcam quale webcam questa ve la ricordate questa webcam è addio arrivano i sostituti vi spiegherò il motivo in questo video perché ho voluto cambiare webcam buona visione ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi spiegherò perché ho deciso di cambiare webcam del computer cioè da questa webcam che adesso ve la metterò a fuoco se riesco con la nuova webcam si guardate con questa qua e con un'altra con un'altra che quella l'ha visto che di 1080 questa qui che ho preso nuova è di 4k ma parliamo dei motivi quale motivo quali motivi mi hanno spinto a cambiare webcam e a comprarmi una webcam decente e non scrausa come quella la che avevo preso io che ci avevamo da tanto tempo che avevamo usato da tanto tempo il primo motivo è questo che la webcam quando io dovevo registrare i miei video avevo la luce del lampadario che molti di voi conoscono no è che non mi permetteva di registrare i video cioè certe volte me li faceva registrare i video me li faceva registrare sempre però la webcam non mi prendeva bene il volto non mi metteva a fuoco perché questa webcam quella webcam la quella che io ho cambiato non aveva il fuoco automatico dovevi aveva il fuoco manuale dovevi stare la tipo a a maneggiare sto coso questo coso qua fino a quando non ti prendeva bene il 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 coso per farti vedere meglio il primo motivo è questo secondo motivo ho cambiato la webcam con la con la speranza che questa webcam nuova ci faccia fare tutte le live anche sui giochi che pesano un sacco perché perché per alcuni giochi io usavo il programma obs che uso sempre per registrare i miei video tutta ora con con tutte le live però con alcune live che ci sono i giochi pesantissimi io dovevo usare il programma della scheda video per registrare per fare le live cosa succede perché c'entra la webcam allora innanzitutto non dico che non mi faceva registrare le live però quando io dovevo andare in live su per esempio facciamo un gioco costruzione simulator 2 o quello la eurotrack simulator 2 non mi faceva andare mi faceva andare in live però io andavo nelle impostazioni della fotocamera e c'era la webcam usb però non andava mi veniva un quadratino blu alla webcam usb che che era questa qua la webcam usb e mi veniva un quadratino blu un quadrato blu tipo che quel quadrato blu era la mia faccia insomma era la mia faccia e io da lì non riuscivo a fare fare niente con la webcam per farmi vedere in faccia in tutte le live anche nei giochi pesanti no e certe e le live io le potevo fare solo in un formato senza webcam capite che uno youtuber che fa i giochi registra i giochi sui giochi pesanti deve tenere non deve non deve farsi vedere la faccia mentre gioca a eurotrack simulator a tif simulator 2 che sono giochi pesanti eccetera capite adesso perché ho fatto il cambio per poter giocare con quei giochi in live eccetera poi il l'altro motivo è questo il focus out il focus a fuoco la messa a fuoco in quella telecamera la la messa a fuoco era manuale e io dovevo stare lì come ho detto prima a chiudere questo a girare sempre la cosa o a certe volte certe volte dovevo girare la miniatura e cambiare la mia la posizione della telecamera per farmi vedere questa telecamera che ho preso dopo vi spiego tutto perché ho preso una fotocamera allora e poi questo qua era l'ultimo motivo quello la che io dovevo posizionare sempre la telecamera da una parte dall'altra eccetera per farmi prendere bene la faccia eccetera passiamo da da noi allora la nuova fotocamera purtroppo non ve la posso far vedere però ve la faccio vedere con il cellulare ok prendo il mio cellulare e vi faccio il video adesso vedrete la clip ora vi faccio vedere la nuova fotocamera allora la nuova fotocamera eccola qua guardate questa qui è la nuova fotocamera avete visto la fotocamera com'è la webcam volevo dire com'è bella vero allora vi spiego il motivo già tanto ve l'ho detto nel video questo qua dove ve l'ho mostrata allora l'ho presa perché questa telecamera è 4k 4k e l'ho presa con il black friday che costava di meno e allora l'ho presa e poi agli autoparlanti tu puoi sentire l'audio di youtube di qualsiasi cosa nel nella videocamera nella webcam a quattro microfoni più al suo telecomando ha il focus automatico e puoi anche spostarti la visuale così bloccarla guardate io sto parlando e voi mi vedete bloccato e abbassare il volume del computer così abbassare il volume del computer e mettere la videocamera sul centro e tante altre cose puoi fare mettere lo zoom di 6x o magari di meno e tante altre cose l'ho presa perché prima di tutto ve l'ho detto adesso le funzionalità perché l'ho presa perché c'è il focus automatico c'è il telecomando si abbassa eccetera secondo motivo con questa webcam noi non abbiamo più il bisogno di spostarla come questa avanti indietro sposta qua cambia questo cambia quello eccetera bensì noi dal telecomando clicchiamo qua e si sposta guardate si sposta e così via quindi se anche noi abbiamo la luce la luce noi io posso registrare così come sto registrando adesso voi mi vedete mi vedete meglio rispetto a quando registravo con sta webcam qua eccetera poi è veramente una webcam 4k cioè io sono partito da una 1080 e sono arrivato alla 4k e l'ho presa anche perché voglio la vostra salute che non faccia danni perché se voi se voi se voi mi vedete a me e poi vedete la luce sopra l'alto non va bene così almeno voi mi vedete me e va bene e poi l'ho presa anche a me per la postura perché io adesso la telecamera come avete visto prima io ce l'ho sopra al computer e non in basso come era l'altra sopra al computer e poi vedrete che i video miei saranno tutti in 4k adesso comunque addio telecamera adesso abbiamo i sostituti perché tu tu eri sempre da pulire l'obiettivo perché poi si vedeva anche sgranato eccetera ma ci hai accompagnato per tanti anni comunque il video finisce così se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in in su iscrivetevi al canale attivate la campanellina su tutte le notifiche eccetera io vi lascio un video qua alla mia sinistra un video qua alla mia destra un video qua alla mia sinistra scegliete il video che volete ciao a tutti ciao